e per secondo sempre preso al mercato e questi vengono da torre del greco abbiamo preso delle zeppolini fritte con le alghe e poi abbiamo preso questa pizza ripiena di scarola guardate che bella dietro ragazzi queste vengono direttamente da torre del greco andiamo all'assaggio di questa zeppolina queste sono con le alghe buona fredda ma buona questa maggio calda che tutta un'altra cosa sempre lì nella casa fantastica e poi non so a voi se vi piacciono la pizza di scarola vediamo l'assaggio non proprio pizza questo diciamo che è russio è russio devo dire buono molto buono questo qua adesso ho fatto l'assaggio ma è molto una vera riscaldatina meno che è davvero caldo e stai mangiamo il secondo comunque qua al mercato ci sono tante cose buone mamma mia regà mo abbiamo scoperto questo qua è napoletano torre del greco e mo ci vado spesso a sfatto un cliente regà e niente regà bevando un abbraccio comunque dopo quel bel piattino di pure sabbia e tartufo ora ti speriamo questo per il secondo dai un abbraccio